Strizza quel gatto. Tutto ciò che devi fare è strizzare quel gatto. E lo devi strizzare dolcemente. Questo non è molto comodo per il gatto. Men che meno sicuro. Onestamente. Lanciale un asciugamano e strizzala per bene ciò che devi fare è raccoglierla su. Come una palla da football. Proprio così. Culo nella tua mano e strizzarla stretta contro il tuo corpo. Non devi preoccuparti di far del male al gatto. Strizzala semplicemente contro il tuo corpo ed ecco qua, abbiamo appena stretto amicizia con questo piccolo meraviglioso gatto. Guarda la sua faccia. Guarda la sua cazzo di faccia. Lo strizzare è il tuo miglior amico per quando hai a che fare con un gatto. Inclini in avanti. La strizzi bene e strettamente e ripeto. Devi sempre strizzare quel gatto.